Preparatevi a un viaggio trascendentale, dove ogni parola è una chiave per sbloccare il flusso abbondante dell'universo nella vostra vita. Vi presento la preghiera ipnotica e potente del denaro benedetto, una sinfonia di parole progettata per elevare la vostra coscienza e magnetizzare una ricchezza inimmaginabile. Immaginatevi immersi in questo audio per soli tre giorni e sentite le porte dell'infinito aprirsi per ricevere torrenti di fortuna. Ma come si fa a trasformare questo sogno in una realtà tangibile? La risposta sta nella semplicità della fede. Credete senza ombra di dubbio che non esistono ostacoli o limitazioni che possano impedirvi di manifestare questa immensa ricchezza attraverso il potere magnetico della legge di attrazione. Lasciatevi avvolgere dall'energia divina dell'universo e assistete a meraviglie che vanno oltre ogni immaginazione. Nel nostro viaggio di connessione con la vasta energia del denaro, sarete guidati ad attrarre questa abbondanza nella vostra casa, nella vostra vita e in ogni cellula del vostro essere. Mentre vi addormentate, lasciate che questa potente preghiera risuoni nella vostra mente, come un sacro mantra che risveglia i flussi cosmici di denaro nella vostra vita. Abbiate fiducia, credete, perché vi meritate questa profusione di benedizioni. Ora chiudete gli occhi, aprite il cuore e permettete all'energia divina di permeare la vostra mente, lasmando il vostro destino verso un'infinita abbondanza. Se sei rimasto incantato da questo viaggio di trasformazione, non perdere tempo. Lascia il tuo like e iscriviti al canale di Divine Connection per essere sempre aggiornato sui nostri contenuti esclusivi. Non dimenticate di attivare la campanella di notifica per non perdere nessun nuovo video ed essere aggiornati su tutte le nostre novità. Vi consigliamo di immergervi in questa preghiera per tre giorni consecutivi, permettendo alla vostra mente di espandersi verso una nuova realtà. Sentite l'energia divina che scorre, trasformando i vostri sogni in una solida realtà. Per ricevere questa potente benedizione, lasciate qui il vostro commento. Sono pronto a cambiare la mia realtà. Soldi benedetti, venite da me. Sarò il prossimo milionario. Io sono il potere. Io sono la luce. Io sono il cuore di Dio. Io sono l'amore. Sono l'abbondanza pura. Sono il flusso della ricchezza e del benessere assoluto. Sto magnetizzando immense quantità di denaro benedetto nella mia vita nelle prossime 72 ore. Stasera dichiaro di essere erede dell'infinita abbondanza che esiste nella mente di Dio. So che l'abbondanza di Dio è la mia infinita fonte di protezione. Il fiume della vita non smette mai di scorrere e scorre attraverso di me con lusso, fortuna e benedizioni finanziarie. Tutte le cose buone mi arrivano in modo inaspettato, perché Dio opera in molti modi per benedirmi e arricchirmi. Ora, in questo momento, apro la mia mente per ricevere grandi quantità di denaro benedetto. Mi permetto di ricevere tutte le forme di ricchezza che l'intelligenza divina è in grado di manifestare. Con Dio come fonte di abbondanza, non mi manca nulla. Tutto mi arriva facilmente, senza alcuno sforzo. Sono grato e ricettivo all'abbondanza che fluisce nella mia vita. Ora sento la potente luce di una protezione infinita che viaggia attraverso il mio passato finanziario, dissolvendo traumi e blocchi creati da vecchie esperienze. Questa luce li sostituisce con convinzioni di valore, successo e abbondanza. Nel presente, questa luce elimina le emozioni negative di paura, angoscia e incredulità, elevandomi a una frequenza fortunata. Nel futuro, questa luce di infinita prosperità influisce sul mio destino finanziario, portando speranza, forza, discernimento e saggezza in modo da poter godere, investire e condividere il denaro che ricevo, portando felicità a me stesso e a tutti coloro che mi circondano. Attraverso il potere delle mie convinzioni, insieme ad azioni coraggiose e determinate e alla mia profonda relazione con Dio, il mio futuro viene creato e la mia abbondanza si manifesta. Grazie a tutti. Il fiume della vita scorre incessantemente attraverso di me, portando con sé lusso, fortuna e benedizioni. Tutte le cose buone mi arrivano in modo imprevedibile e grandioso, perché Dio opera in innumerevoli modi per benedirmi e arricchirmi. In questo momento, apro la mia mente per ricevere grandi quantità di denaro benedetto. Mi permetto di accogliere tutte le forme di ricchezza che l'intelligenza divina è in grado di creare. Con Dio come fonte suprema di abbondanza, non c'è scarsità o privazione. Tutto mi arriva con facilità, gioia e gloria, senza che io debba fare alcuno sforzo. Ora sento la potente luce di una protezione infinita che attraversa il mio passato finanziario, dissolvendo traumi e blocchi originati da vecchie esperienze. Questa luce sublime sostituisce ogni ferita con convinzioni di valore, successo e abbondanza. Visita il mio presente, disperdendo ogni vibrazione negativa di paura, angoscia e incredulità, sollevandomi nella sacra frequenza della fortuna, del lusso e della libertà. Questa stessa luce gloriosa plasma il mio futuro finanziario, infondendogli speranza, forza, discernimento e saggezza, in modo che io possa godere, investire e condividere il denaro che ricevo in abbondanza, portando felicità non solo a me stesso, ma anche a tutti coloro che mi circondano. Grazie al potere incrollabile delle mie convinzioni, unito ad azioni coraggiose e determinate, e alla mia profonda relazione con Dio, creo un futuro di realizzazione e manifesto la mia abbondanza in questa notte sacra. Apritevi ora e permettete alle onde di energia della ricchezza di fluire attraverso la vastità dell'universo, ispirando e lavorando nella vostra mente, attirandovi in un potente campo magnetico di attrazione, sintonizzato su tutti i pensieri di ricchezza. La vostra mente dirige pensieri, immagini e sensazioni verso le infinite possibilità di diventare ricchi. Da oggi in poi, attirate a voi le benedizioni che vi aspettate e quelle che non vi aspettate. Io sono il potere. Io sono la luce. Sono il cuore di Dio. Io sono l'amore. Sono pura abbondanza. Sono il flusso della ricchezza e del benessere assoluto. Per la mia vita, sto magnetizzando immense quantità di denaro benedetto nelle prossime 72 ore. Stasera dichiaro di essere erede dell'infinita abbondanza che esiste nella mente di Dio. So che l'abbondanza di Dio è la mia infinita fonte di protezione. Il fiume della vita non smette mai di scorrere e scorre attraverso di me con lusso, fortuna e benedizioni finanziarie. Tutte le cose buone mi arrivano in modo inaspettato, perché Dio opera in molti modi per benedirmi e arricchirmi. Qui e ora, apro la mia mente per ricevere grandi quantità di denaro benedetto. Mi permetto di ricevere tutte le forme di ricchezza che l'intelligenza divina è in grado di creare. Con Dio come fonte di abbondanza, non mi manca nulla. Tutto mi arriva con facilità, gioia e gloria, senza alcuno sforzo. Ora sento la potente luce di una protezione infinita che attraversa il mio passato finanziario, dissolvendo traumi e blocchi creati da vecchie esperienze. Sostituendole con convinzioni di merito, successo e abbondanza, questa potente luce di protezione infinita visita il mio presente, eliminando le emozioni negative di paura, angosce e incredulità, e portandomi a una frequenza di fortuna, lusso e libertà. Questa potente luce di infinita prosperità ha un impatto sul mio futuro finanziario, portando speranza, forza, discernimento e saggezza in modo che io possa godere, investire e condividere il denaro che ricevo, portando felicità a me stesso e a tutti coloro che mi circondano. Attraverso il potere delle mie convinzioni, insieme ad azioni coraggiose e determinate e alla mia profonda relazione con Dio, il mio futuro viene creato e la mia abbondanza si manifesta. Stasera accetto e per Grazie a tutti. 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 Tutto mi arriva con facilità. Grazie a tutti. Questa luce sublime accoglie ogni ferita e la trasforma in convinzioni di valore, successo e abbondanza. Visita il mio presente, dissipando ogni vibrazione negativa di paura, angoscia e incredulità, elevandomi a una frequenza sacra di fortuna e libertà. Questa stessa luce gloriosa plasma il mio futuro finanziario, infondendoli speranza, forza, discernimento e saggezza, in modo che io possa godere, investire e condividere il denaro che ricevo in abbondanza, portando felicità non solo a me stesso, ma anche a tutti coloro che mi circondano. Grazie al potere incrollabile delle mie convinzioni, unito ad azioni coraggiose e determinate e alla mia profonda relazione con Dio, creo un futuro di realizzazione e manifesto la mia abbondanza in questa notte sacra. Accettatelo ora e permettete alle ondate di energia di ricchezza di attraversare la vastità dell'universo, ispirando e lavorando nella vostra mente, attirandovi in un potente campo magnetico di attrazione sintonizzato su tutti i pensieri di ricchezza. La vostra mente dirige pensieri, immagini e sensazioni verso le infinite possibilità di diventare ricchi. Da oggi in poi, attirerete a voi le benedizioni attese e inaspettate. Io sono il potere. Io sono la luce. Sono il cuore di Dio. Io sono l'amore. Sono pura abbondanza. Sono il flusso della ricchezza e del benessere assoluto. Sto magnetizzando immense quantità di denaro benedetto nella mia vita nelle prossime 72 ore. Stasera dichiaro solennemente di essere erede dell'infinita abbondanza che esiste nella mente di Dio. So che l'abbondanza di Dio è la mia infinita fonte di protezione. Il fiume della vita non smette mai di scorrere e scorre attraverso di me con lusso, fortuna e benedizioni finanziarie. Tutte le cose buone mi arrivano in modo inaspettato, perché Dio opera in molti modi per benedirmi e arricchirmi. Qui e ora, apro la mia mente per ricevere grandi quantità di denaro benedetto. Mi permetto di ricevere tutte le forme di ricchezza che l'intelligenza divina è in grado di seminare. Con Dio come fonte di abbondanza, non mi manca nulla. Tutto mi arriva con facilità, gioia e gloria, senza alcuno sforzo. Sentite ora la potente luce della protezione infinita che viaggia attraverso il vostro passato finanziario, dissolvendo i traumi e i blocchi creati da vecchie esperienze. Questa potente luce di protezione infinita sostituisce ogni ferita con convinzioni di valore, successo e abbondanza. Visitando il mio presente, dissolve ogni vibrazione negativa di paura, angoscia e incredulità, sollevandomi in una frequenza sacra di fortuna e libertà. È la stessa luce gloriosa che influisce sul mio futuro finanziario, infondendolo di speranza, forza, discernimento e saggezza. Inmo. Grazie a tutti. Sentite ora il potere di questa luce che scorre nel vostro essere, dissolvendo ogni ostacolo e riempiendo ogni cellula con l'energia della prosperità. Lasciatevi avvolgere da questa luminosità che guida il vostro cammino verso l'abbondanza. Ricordate che ogni pensiero, ogni immagine che la vostra mente concepisce, è un seme piantato nel fertile giardino dell'universo. Coltivate pensieri di prosperità, visualizzate la vostra vita traboccante di ricchezza in tutti i settori. Oggi più che mai siete connessi alla fonte infinita di ogni abbondanza. Abbracciate questo potere e permettetegli di manifestarsi nella vostra vita in modi grandiosi e inaspettati. Siete degni di ogni benedizione che l'universo ha in serbo per voi. Lasciate che questa certezza si radichi profondamente nella vostra coscienza, guidandovi con fiducia verso il vostro destino di realizzazione. Ad ogni respiro, rafforzate il vostro legame con la fonte divina di ogni bene. Siate grati per tutte le benedizioni che sono arrivate e sappiate che il meglio deve ancora venire. Oggi, in questo momento sacro, siete i co-creatori della vostra realtà. Con fede incrollabile e azione decisiva, date forma al vostro destino e manifestate l'abbondanza che avete sempre meritato. Che questa luce risplenda luminosa nella vostra vita, guidandovi verso un futuro pieno di prosperità, amore e felicità. Credeteci, agite con determinazione e generosità e osate seguire i sentieri della grandezza. Condividete questa potente preghiera con le persone che amate, invitandole a risvegliarsi al potenziale infinito che risiede in ognuno di noi. Insieme, irradiamo luce, amore e gioia nel mondo, creando una sinfonia di successo e benessere. Che il vostro viaggio sia segnato da successi e che la vostra fede rimanga incrollabile. Abbiate fiducia che Dio provvederà sempre e che l'abbondanza fluirà nella vostra vita in modo straordinario. Grazie per aver partecipato a questo momento sacro e che il vostro viaggio sia benedetto da ricchezza, successo e gioia. Grazie per aver guardato il vostro viaggio sia benedetto da ricchezza.